Fiumi di cocaina arrivavano dalla Calabria a Palermo, poi raggiungevano Agrigento e anche l'isola di Lampedusa. Scattano 14 arresti con l'operazione Lampedusa della squadra mobile del capoluogo, in corso dalle prime luci dell'alba insieme ai colleghi di Reggio Calabria, Agrigento e Siracusa. Le indagini coordinate dalla DDA di Palermo hanno permesso di accertare che lo smercio dello stupefacente nelle varie province era garantito da una cerchia di corrieri, tutti commercianti ambulanti, ma pusher di fatto. Per il loro lavoro ufficiale raggiungevano i mercati rionali ed in tal modo spostavano la droga senza destare sospetto. Ma non solo cocaina, l'organizzazione si occupava anche del traffico di hashish e marijuana con una articolata suddivisione dei ruoli e la comunicazione con i referenti delle singole province di destinazione dello stupefacente. Nel corso delle indagini è emerso che pur provenendo la maggior parte dello stupefacente dalla Calabria non mancavano fonti di approvvigionamento locali, come per esempio la piantagione indoor di marijuana scoperta e sequestrata in territorio di Villafrati nel palermitano nel 2017 è curata da un soggetto alle dirette dipendenze di uno dei principali esponenti dell'associazione.